Spiritello, questo folletto delle nostre montagne che è custode della tradizione e della cultura casearia, quella che l'uomo ha scarpito del Mazzarol proprio rumandoglielo e osservandolo di nascosto. Perché il Mazzarol? Perché il Mazzarol è un personaggio non cattivo ma dispettoso e oltre ad essere una metafora anche della nostra identità con il nostro territorio, non solo quello montano, delle montagne in generale, perché il Mazzarol appartiene a tutta la catena alpina, ma è anche il ponte di contatto con le genti di pianura, il Mazzarol è presente anche verso Treviso, verso Venezia, quindi lungo quella che idealmente è il percorso della Piave, il nostro fiume. Perché il Mazzarol dice no? Perché essendo dispettoso oggi ne combinerà di tutti i colori, nella maniera colorata di cui siamo tutti capaci, in maniera allegra e ironica, soprattutto per riportare un attimo in evidenza il problema della gestione dell'acqua che nella nostra provincia, come ben sappiamo, è lasciata abbandonata a se stessa. Diciamo uno dei nostri moti per oggi era quello di Bellunese, alzati e cammina. Speriamo, io spero che la gente si aggreghi anche durante il percorso, perché è importante dare un segno forte che i bellunesi ci sono, condividono questo problema, che è il più trasversale che ci possa essere, per riportare alla ribalta il problema della gestione dei beni comuni, che purtroppo, lo vediamo tutti i giorni, quotidianamente, sono sempre più sofferenti e sempre più depauperati dai grossi interessi purtroppo. Quindi oggi cerchiamo di dare un segnale forte alla città, alla provincia, un po' a tutti, alle persone stesse, perché i tempi sono maturi, dobbiamo tornare, signori, a manifestare e soprattutto dobbiamo tornare a essere protagonisti delle scelte politiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei nostri territori. Grazie.